mamma mia che legnata ragazzi che legnata tanto buonasera a tutti io umiliati umiliati inter batte milan 5 a 1 5 a 1 e li andata pure bene io sembra che ho già fatto un video sulla parte dell'inter non mi ricordo se la settimana scorso l'altro adesso non mi ricordo oggi ho visto il derby dopo aver visto una buona juve ma io quando vedo l'inter oltre la forza della squadra vedo una squadra che gioca a calcio e bisogna dirlo bisogna dirlo poi noi possiamo dire ma loro non ci fanno mai complimenti loro di qua loro di là possiamo dire tutto quello che volete può darsi che sia vero ma ci sono tantissimi interisti che a me mi stimano mi apprezzano e quando è ora fanno pure i complimenti e non vanno per partito preso su tutte le cazzate che si dicono io mi sento di fare questo video e di fare i complimenti a questa squadra che restano cartonati restano tutto quello che volete però io parlo dei giorni correnti l'inter ragazzi è veramente forte è veramente forte è veramente forte hanno distrutto fisicamente moralmente il milan il milan ne viene fuori con le ossa lotta perché non è perdere una partita un derby ci sta puoi vincerlo puoi perderlo puoi pareggiarlo il derby è sempre una partita una storia a sé ma prendere cinque gol nel derby è veramente veramente pesante ma veramente pesante turam impressionante questo questo ragazzo qua parametro zero io sono sincero non l'avevo mai visto giocare a parte qualche partitina così senza seguirlo più di tanto dicevano questo è sempre rotto questo non fa mai gol questo di qua questo di là oggi a parte che ha fatto un euro goal ma poi ragazzi questo questo c'è il turbo nei polmoni è imprendibile mkhitaryan un altro giocatore mandato via dalla roma parametro zero murigno il grande tenditore di calcio lascia andare un giocatore come mkhitaryan impressionante c'era no gluli davanti alla difesa una certezza lautaro anche se oggi non ha fatto gol però lautaro prende palla e ti dà l'impressione che ti può far male da un momento all'altro e poi vari d'un fris di marco il portiere summer una squadra veramente perfetta secondo me e c'è da fare i complimenti anche a un allenatore che da me da me io metto io a capo di quelli che lo bistrattavano a me non è mai piaciuto simone in zaghi la lazio eccetera eccetera e invece simone in zaghi sta dimostrando che che oltre che oltre ce ne ha chiamata che oltre ai risultati stava sta facendo giocare una squadra a calcio e la sta facendo giocare anche bene quindi bisogna bisogna dirle le cose bisogna dirle va bene perché se non si va sempre per partito preso perché è vero che l'inter c'è dei buoni giocatori c'è delle buone riserve ha fatto gol frattesi alla fine entrato dalla panchina tutto quello che volete però l'inter quando riparte ragazzi questi vanno in 56 in aggressione sul portatore di palla vanno in 56 in contropiede ma c'è sono sono preparati fisicamente bene e mentalmente sono forti e sanno di essere forti e quindi bisogna dirlo bisogna dirlo e basta loro c'hanno le coppe noi no io penso che la juventus si possa giocare il campionato insieme all'inter poi puoi vincerlo poi perdo l'inter è più forte oggi della juventus senza ombra di dubbio però loro c'hanno le coppe e la juve non ce li ha quindi noi dobbiamo cercare di non fare passi falsi e di cominciare a giocare a calcio detto questo ho detto questo c'è nient'altro da aggiungere io non mi voglio divulgare più di tanto a fare un video sull'inter però però è giusto dirlo io lo dico con il cuore che mi sanguina non vorrei io volevo oggi volevo che pareggiavano e vabbè ma a prescindere questo io spero che l'inter prenda quattro gol a partite ma questi sono forti in difesa forti al centrocampo e forti in attacco e hanno un gioco che è bello da vedere è bello da vedere non sarà in Manchester City perché non sarà in Manchester City però io quando vedo qualche partita dell'inter quando posso non mi annoio mi dispiace ma è così è così poi detto questo spero nel fallimento dell'inter spero tutto quello che volete però siccome siamo qua e dobbiamo un po' di cronaca bisogna farla e non me ne frega un cazzo se lo youtuber interista insulta la Juve e non dice mai che la Juve è meritato eccetera 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 loro fanno i cazzi loro io mi faccio i cazzi miei io sapete ho sempre ho sempre detto quello che penso e quello che vedo quindi l'Inter a oggi è imbattibile e quindi chapeau ciao a tutti fino alla fine forza Juve inter merda ma sono più forti che cazzo devo dire ciao